Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri in tarda serata il decreto legge sugli spostamenti che conferma la stretta del Governo sulle festività. Intanto prosegue il lavoro sulla bozza del DPCM con le misure che saranno in vigore dal 4 dicembre. In nottata, il testo è stato inviato ai Presidenti di Regione perché facciano le loro valutazioni in vista di un nuovo confronto con il Governo prima della firma. Natale e Capodanno blindati dentro i confini comunali e dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come per gli altri giorni. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni in necessità, ovvero per motivi di salute. Nelle prossime ore spetterà alle Regioni esprimere un giudizio sulle misure del Governo. Nella serata ieri, prima Michele Emiliano in un'intervista TV, poi Giovanni Toti sui social, hanno criticato la scelta di chiudere i comuni. Non c'è buonsenso, ma non senso, attacca il Presidente Ligure. Se vostra mamma vive sola alla Gueia, ma voi abitate ad Alassio, scordatevi di trascorrere il pranzo di Natale con lei.